Ciao a tutti amici di Outcast, sono il solito Andrea Madern, ma sono qui solo per registrare così un brevissimo messaggio per introdurre una cosa un po' particolare che andiamo a pubblicare oggi a canali unificati ovvero l'incontro fra Andrea Peduzzi, il nostro Andrea Peduzzi e il più o meno nostro Luigi Marrone che chi ci segue dagli inizi magari ricorderà che però ultimamente è super coinvolto nel suo progetto Ludens che trovate all'indirizzo www.ludens.it anche lì articoli video, podcast, la qualunque, i due si sono incontrati in un set di realtà virtuale tramite PlayStation VR per chiacchierare di vari temi, vari argomenti e anche vari videogiochi appunto in realtà virtuale e hanno fatto questa trasmissione in live, adesso ve la riproponiamo indifferita sia in versione registrazione video sul canale YouTube sia come podcast entrambe le versioni sono pubblicate sia qui su Outcast, Outcast.it e derivati vari sia su Ludens, andate un po' a guardarvela, ad ascoltarvela dove preferite, direi che è tutto vi lascio alla nostra sigletta tradizionale degli speciali e poi appunto a Luigi che introduce un attimo la discussione e poi appunto tutta la conversazione, ciao! Qua la vita interventopoli è un gran sballo, platform action GDR, ma che bello, storie di giochi, ma che bei giochi! Outcast! Ogni tanto registriamo un podcast, sui giochini dei bambini Outcast! Fai attenzione, c'è un marrone alle spalle che ti spia, non aver paura è solo Outcast! Personaggi strabilianti Outcast! Rubriconi divertenti Outcast! Maripotti strepitosi Outcast! Ciao a tutti, questa premessa è una breve riflessione registrata a posto ma al video che seguirà, ed è stata pensata per definire le aspirazioni, l'entusiasmo e in qualche modo i confini teoretici entro i quali si è mosso l'evento live. L'audio della trasmissione sarà anche estrapolato e pubblicato in formato podcast, a ribadire la natura indipendente e di convergenza cross-mediale nel discorso critico che porta avanti il progetto Ludens. Per gli spettatori non risulterà difficile notare l'esistenza di una certa dissonanza tra gli argomenti di cui parliamo e l'aspetto buffo degli avatar, del social club virtuale Rec Room, questi poupazzi digitali senza gambe e braccia che rappresentano il giocatore. Una dissonanza però voluta, poiché questi tempi, emergenziali o meno, sono caratterizzati da un senso di socialità fisica sempre più dissonante, dove la presenza dell'altro è mediata dalle tecnologie, dagli schermi, dall'interfaccia. Ecco quindi che ci è venuto in mente di sfruttare il senso di presenza dato dalla realtà virtuale, la tecnologia che attualmente più garantisce la delocalizzazione artificiale della coscienza per proiettarla in un'altra spazialità. Dato inoltre che stiamo vivendo un periodo di esistenza in cui in un certo senso siamo più costretti a filtrare la vita attraverso gli schermi, l'idea è stata quella di ricreare qualcosa che eliminasse artificialmente, per quanto più possibile, la distanza fisica, il distanziamento sociale, così da avvertire un senso di prossimità con l'altro sentito come fisico, come reale. Come nelle vere trasmissioni, io e Logan del progetto Ludens abbiamo creato questo studio virtuale che mette nelle medesime condizioni sensoriali di quando ci si ritrova fisicamente assieme per registrare un video per una trasmissione live. Gli interlocutori che parlano su di un palco, in uno spazio condiviso, circondati da oggetti che nella loro percezione risultano solidi, concreti, reali, e gli spettatori da casa che effettivamente non sono lì, non sentono cosa voglia dire vivere la prossimità fisica, in una prospettiva tra l'altro in prima persona, di chi è presente in studio, dato che non condividono la stessa dimensione, il medesimo spazio virtuale. Quello che ci interessava sperimentare era come i partecipanti a una trasmissione, in uno studio di registrazione VR, potessero risultare influenzati dall'ambiente in cui sono immersi, dagli oggetti e dal senso di prossimità che si genera in uno spazio condiviso. La costrizione di un visore VR, obbliga, in un certo senso, la coscienza, la rende servile alla percezione di un'altra realtà che si sovrappone a quella analogica, esperita ordinariamente. Gli spettatori da casa che seguono questo tipo di diretta, o la guardano di ferita, possono non avere coscienza del fatto che, immersi nella condizione VR e consapevoli anche di stare registrando, gli interlocutori presenti nello studio non hanno possibilità, che ne so, di leggere appunti, controllare il telefono o distrarsi. Similmente a un sogno si è isolati dagli stimoli esterni e si resta necessariamente focalizzati sul principio di realtà che sta avendo luogo, ossia quello che ci circonda, quello che sta accadendo, in questo caso focalizzati sugli argomenti di cui si sta trattando. Si tratta, ripeto, di una condizione sperimentale che volevamo seguire e che di certo approfondiremo in futuro. Concludo specificando che se abbiamo scelto di trattare l'opera Paper Beast è perché ci sembrava in qualche modo coerente con la nostra disposizione speculativa, dato che fate la realtà virtuale il presupposto della sua concezione estetica e del suo game design. Di questo ne ha magistralmente trattato in studio soprattutto Andrea Peduzzi di Outcast, la voce dei videogiocatori Borderline. Che dire, buona visione o buon ascolto? E ben trovati a tutti. Questo primo esperimento che è un crossover between Ludens e Outcast. Ciao a tutti. Io sono Luigi Marrone, cofondatore di Ludens e abbiamo qui Andrea Peduzzi di Outcast, rappresento Outcast, il che non significa che tutti quelli di Outcast si debbano sentire rappresentati da me, molti non lo faranno. Fierano, uccideranno di non farlo. Sì, siamo qui a fare questo esperimento in war, che è veramente una roba stranissima da esserci dentro, ragazzi, se non avete idea, è stata un'idea di Ludens, di Luigi e di Logan che mi hanno chiamato. Come vi è venuta? Ma non lo so, stiamo giocando con Rec Room, questa piattaforma virtuale social, e mi ci è venuto in mente di creare una stanza per fare questa diretta, per provare cosa significa eliminare il senso di prossimità, avere questa artificiosa mancanza di distanziamento sociale fra noi. E quindi vogliamo provarla, anche per parlare di questi tempi, per fare qualcosa che potesse farci sentire più vicini a noi, anche se in modo virtuale. Sì, tra l'altro io sono in Vivacomo, per cui sono in zona rossa fin dall'inizio, più o meno da un mese e mezzo, ed è tecnicamente la prima volta che evado, diciamo, da casa mia, se non per fare la spesa o andare in farmacia o comunque per andare in un altro spazio. Tra l'altro io non avevo mai provato Rec Room, me l'hanno fatto conoscere loro. È un software che, se avete PlayStation VR, piuttosto che è compatibile anche con Oculus, corretto? Sì, un po' tutte le piattaforme, anche tablet mobile. Tablet mobile, però iOS, perché per esempio su Android non è disponibile il software, però l'ho trovato anche su Steam. E beh, praticamente è una specie di social network nel quale è possibile, poi magari lo conoscete meglio di me, nel quale è possibile giocare, incontrarsi, farsi un avatar. E la cosa veramente incredibile è che noi lo stiamo usando per registrare attraverso un escamotage tecnico. Cioè abbiamo, hanno anzi i ragazzi di Ludens, Logan e Luigi, trovato, diciamo così, una sorta di falla nel sistema perché normalmente non è adibito, diciamo, per questo tipo di pratica e abbiamo impostato questa chiacchierata. Esattamente. Abbiamo, voi non lo vedete, ma la camera ovviamente è virtuale, ma sono gli occhi del mio, del cofondatore di Ludens, Logan Gian Claudio, che ovviamente è quello che ci sta inquadrando, è la persona fissa che fa da camera fissa, pur essendo un avatar come noi, buffo, solo testa, busto e mani. Io Andrea, dico la verità, volevo far parlare a te perché, e volevo, vado subito a inquadrare teoricamente un po' questa serata, come si può leggere, nella lavagna si chiama Paper Beast, abbiamo chiamato questo meeting, ritualità e arte di algoritmi in VR. Volevo farti alcune domande e poi ti lascio rispondere. Magari può capitare che io lasci il palco e lascio proprio a te, come si può dire, la conduzione, la risposta, perché so che tu hai giocato questo meraviglioso gioco Paper Beast. Sì, esatto. Oh, ci siamo dati il 5. Vedete quante cose che si possono fare. Sì. Volevo, la domanda è solo, ti faccio più, ti lascio parlare, anche un'introduzione a chi ci sta ascoltando. Insomma, per questo primo esperimento di trasmissione io ho deciso di trattare Paper Beast perché esistono opere che più di altre portano naturalmente a riflettere sulle tecnologie che le rendono possibili. La mia analisi del gioco, quella che abbiamo fatto per Ludens, tratta del senso di inclusione, di presenza e di localizzazione della coscienza promossi da Paper Beast, che è un'opera, ripeto, in realtà virtuale dello studio Pixel Reef di Montpellier, fondato da Eric Chahi, che è il grande game designer di From Dust, di Another World, di Earth of Darkness. E Paper Beast è un gioco che trascende la definizione di gioco di esplorazione, di avventura e puzzle solving ambientale per farsi esperienza di un ecosistema d'arte in VR. Ecco, Andrea, a te volevo chiedere, quale dimensione migliore per trattare quest'opera, se non quella in VR? Sì, è singolare parlare di Paper Beast in VR, però ragazzi io vorrei ancora prendermi un secondo, perché è singolare stare qui a parlare in VR, cioè veramente è la prima volta che lo faccio ed è una roba comunque che consiglio veramente a tutti, perché è stata una trovata fantastica. Tra l'altro la stanza che vedete, il set che vedete è stato costruito dai ragazzi di Dungeons, cioè hanno proprio fatto come in Ready Player One, che c'è il personaggio di Aitch, che si è costruito la cameretta virtuale in cui si trovano. È veramente una roba pazzesca. Ed è pazzesco anche Paper Beast, sì, hai detto bene. È l'ultimo lavoro in realtà virtuale di Pixel Hunt, nello specifico lo studio indie, quindi il primo gioco di Pixel Hunt, di questo studio fondatore da Eric Chahi, c'è Eric Chahi è questo designer francese che, come ha detto lui, di conoscere probabilmente per Another World, che è forse la sua opera più famosa, ed è un designer estremamente innovativo. Another World, quando arrivò sua amica agli anni 90, fu veramente una botta pazzesca, nel senso che era un gioco. Prima di tutto utilizzava questa grafica poligonale, diciamo così, per rendere le animazioni estremamente fluide e credibili. Dopodiché era simile, per trattarsi diversi al lavoro che aveva fatto poco prima Jordan Metzner su Apple con Prince of Persia. Però Another World aveva qualcosa in più, aveva una costruzione narrativa estremamente cinematografica che iniziava subito. Ricorderete che appena ho messo il disco nell'amica c'era questa presentazione con la Ferrari, con questo personaggio che entrava, accendeva il computer e attraverso questo estamontage di vita all'interno del computer veniva affiondato appunto in Una Other World, in un mondo misterioso, nel quale praticamente il giocatore si ritrovava immerso, senza alcun tipo di suggerimento, con un'interfaccia estremamente trasparente, senza alcun tipo di indizio che non fosse l'osservazione dell'ambiente che gli stava attorno. A quel punto doveva portare avanti un'avventura che poi si evolveva anche in un rapporto d'amicizia con uno degli alieni che abitavano questo mondo. Però ecco, c'era comunque questa sostanza che era un mondo che era vivo, era autosufficiente, procedeva, non dava la sensazione di procedere a trigger come magari in molti giochi dell'epoca, ma come anche in molti giochi di oggi, però aveva la sensazione di vivere a prescindere dal giocatore. Ed è sostanzialmente un tipo di poetica, un tipo di visione che ritroviamo praticamente intatta e poi ancora evoluta in Paper Beast. Paper Beast è esattamente la stessa cosa, Paper Beast inizia come Another World, però lo sposta praticamente in prima persona e lo porta in VR. In Paper Beast di fatto il giocatore attraverso un escamotage si trova di nuovo, dopo tanti anni, penso 25 anni, ho preso il conto quasi 30, si trova catapultato in un universo fittissimo a vivo digitale all'interno di un computer e ancora una volta si trova completamente spaesato, privo di indizi, tutto quello che deve fare anche con un'interfaccia ancora in questo caso leggerissima, che poi era il marchio di fabbrica di RICCI all'epoca e anche ora, e si trova a dover decodificare tutta una serie di elementi che vivono in questo universo virtuale del Paper Beast e del titolo che sono degli animali e deve in qualche modo venirne a capo. All'inizio non si sa nemmeno bene cosa deve fare il giocatore, se deve uscirne vivo, se deve interpretarlo, se deve interpretare quello che succede. Si trova di fatto a fronte di un intero ecosistema diviso per zone, con una narrazione comunque decisa, con una direzione, una regia che non sono casuali, anzi sono molto presenti, però in qualche modo si appoggiano su quello che è l'ecosistema, che è quello che è un insieme di animali, di elementi naturali, una vita che va avanti e che deve essere prima di tutto osservata. C'è la prima cosa che si fa all'interno di Paper Beast, a parte che viene spontaneo perché sei in un mondo virtuale, col tuo casco addosso, in un mondo tra l'altro bellissimo, con una direzione artistica fantastica. Luigi diceva in un video precedente su Ludens che effettivamente l'unico limite in questo caso, e tra l'altro il gioco per ora è un'esclusiva PlayStation War, è la risoluzione di PlayStation War. Ne parliamo dopo perché c'è una domanda a Doc, volevo dire che volevo impostare questa serata chi lascio parlare, io faccio solo le domande che definisco anche i contorni teoretici, più di questo non mi sento di dire, perché è vero tu hai in mano la pietra filosofale di Paper Beast, secondo me. Anche la tazzina, e la bottiglia, vedi? Anche la tazzina, non riesco a prendere questa, eccola qua, guardate, guardate, tieni, se vuoi bere, non so se puoi prenderla, eh no, non siamo ancora così voluti, perché dovete sapere che non ha regolato correttamente l'altezza del mio avatar, nel senso che, ok, beh dicevi comunque Luigi, vai. Niente, ti faccio questa domanda, dunque, questa, questa, come si dice, trasmissione, questa puntata ho messo in meeting, l'ho chiamato ritualità e arte di algoritmi in VR, quindi parliamo degli algoritmi e la tua affermazione sui glitch, un algoritmo sappiamo che è un codice di programma con un procedimento chiaro e finito, no, il codice funziona o non funziona, se non funziona vuol dire che c'è un errore da individuare. Ora, c'è un libro della scrittrice e programmatrice Ellen Ullman, intitolato Accanto alla macchina, la mia vita nella Silicon Valley, nella quale questa scrittrice afferma che chi sperimenta il tipo di sospensione dato dal glitch, accede a nuovi significati d'esistenza, il glitch ti costringe ad avere a che fare con la matrice di un mondo, in questo caso quello del mondo programmato, no, che con le sue fondamenta, sia con le sue fondamenta ontologiche, se vogliamo, fondamenta di questo mondo. Ora, tu mi hai scritto, in privato, di aver apprezzato Paper Beast, in Paper Beast l'indipendenza del gioco dal giocatore, ai limiti del glitch. Me ne vuoi parlare? Sì, esatto, perché, come dicevo, all'interno di questo gioco bisogna, prima di tutto, osservare, capire cosa fanno tutte le varie forme di vita, forme di vita animali, forme di vita vegetali, minerali, che lo popolano per cercare un po' di capire anche solo in che direzione bisogna andare, ma anche solo esattamente che cosa devi fare lì sui due piedi. Ecco, la cosa interessante è che tutto questo mondo di gioco è talmente, come si dice, sofisticato, non sofisticato al limite, nel senso che comunque se il giocatore decide, diciamo così, di andare a vedere cosa c'è un po' dietro lo specchio, scopre che ci sono comunque dei trucchi, che ci sono dei limiti. Però sono relativamente pochi e soprattutto non interferiscono con quella che è la credibilità del gioco. Ecco, quando dicevi di glitch, a me è successo che effettivamente il mondo è talmente autosufficiente, è un mondo che è lì a prescindere dal giocatore, nel senso esiste comunque, e io ammetto che in alcune situazioni mi è capitato, banalmente, per risolvere diciamo un enigma, anche se parlare di enigma è un po', come si può dire, particolare, perché il gioco non è propriamente un puzzle game, non si basa su enigmi veri e propri, né su puzzle veri e propri, sono più che altro interventi in questo sistema. Ecco, mi è capitato che, non so, io nel gioco, nella finzione del gioco non sapevo cosa fare, perché a un certo punto davvero offriva così pochi indizi che ero un po' spaesato, non sapevo, ho fatto degli esperimenti in giro, ho provato perché in questo gioco è possibile intervenire attraverso alcuni artifici su quello che è il terreno, su quella che è la natura, un po' come succedeva in parte quel gioco precedente di Eric Chahidi una decina di anni fa che è From Dust. Comunque, quando non sapevo cosa fare, a me è capitato di alzarmi, di semplicemente farmi un giro in casa, in casa mia, nella casa vera, perché magari mi sono tolto il casco, perché avevo voglia di bere una birra, perché avevo voglia di fare una pausa, e quando sono tornato ho osservato che l'ecosistema che io avevo stimolato solamente in un paio di punti, partendo da quelle mie modifiche, si era evoluto in modo tale da indirizzarmi all'interno del gioco, e di fatto, utilizzando un termine che forse non è proprio un gioco così particolare, si è risolto il livello da solo. Però questo non è un limite del gioco, perché io poi ho capito cos'era successo, cioè non è che è successo per caso, però è come se io, di fronte a questo sistema complesso, abbia premuto, diciamo così, due levette per caso, senza capire bene cosa stavo facendo, esplorando, e poi quando mi sono andato il flusso, però ho continuato a girare, e quindi quando io per esempio in quel caso specifico c'era da far alzare il livello dell'acqua per sbloccare tutta una serie di opportunità, in quel caso specifico io semplicemente avevo modellato il terreno nella maniera corretta, senza saperlo, ma così, che poi non era una sola la maniera corretta, ce ne sono molte, perché in un sistema complesso le vie di fuga sono parecche, quindi avevo trovato una delle possibilità di inserazione corrette per sbloccare quella situazione, e giustamente la situazione si era sbloccata, ed è stato bello in quel caso non tanto risolvere l'enigma, perché di fatto non l'ho risolto in maniera cosciente, è stato bello però interpretare e capire che era tutto negolare, quello che ho fatto ha senso e la sua evoluzione è stata assolutamente sensata, e questo succede sia in questo caso in cui dovevo effettivamente intervenire su un bacino idrico, che quando magari bisogna anche rapportarsi con le forme di vita animali, che sono più complesse, più sofisticate, e hanno addirittura delle interazioni tra di loro di tipo familiare. Ecco, passiamo alla prossima domanda, innanzitutto una piccola premessa per chi ci ascolta, ci guarda, chi ci guarderà, non si vede la nostra bocca muoversi perché siamo in chat privata, la stiamo registrando, normalmente si vedrebbe la nostra bocca muoversi secondo l'interlocutore, secondo chi sta parlando, e apparirebbero delle linee, delle onde a testimoniare chi sta parlando visivamente. Diciamo che abbiamo anche scelto questa possibilità perché c'è la possibilità di usufruire di una qualità audio un po' più buona. Esattamente, se strapoliamo poi per la trasmissione in formato podcast, l'audio in formato podcast risulta sicuramente di qualità migliore. Dunque, Piper Bist e gli algoritmi comportamentali delle sue creature, ti faccio questa domanda. L'algoritmo è pura ritualità, è azione, gesto compiuto e ricompiuto, elaborato da un codice di un programma informatico. L'algoritmo, se vuoi, è testardo, è un innesto comportamentale in Piper Bist, una norma codificata dal programma che dà adito a performance, ad azioni che le creature di Piper Bist, in questo caso, continuano a fare e rifare, che il videogiocatore può sfruttare per la risoluzione di puzzle ambientali. E a te è data bene perché fortunatamente è riuscito anche a sbloccarti una risoluzione di un puzzle ambientale. Tu prendi, per esempio, la testugine di carta che segue i suoi piccoli in Piper Bist. No, a fare uno dei suoi piccoli perché hai capito che lei esce dal suo percorso e lo seguirà automaticamente, ritualmente, e quindi sfidando il vento con la sua mossa e il suo peso, tu ci attacchi alla zampa i cavalli di carta che sono leggeri, che non riescono ad affrontare il vento, sono risospinti via, e così i cavalli riescono a raggiungere l'albero che cercano poi di... che fanno accedere allo stagio successivo. Ora, in realtà virtuale noi comprendiamo le logiche rituali e deterministiche degli algoritmi comportamentali delle creature, ma il senso di presenza, la dimensionalizzazione del nostro sé, della nostra coscienza, produce un investimento che io definisco affettivo, cioè di certo più emotivo rispetto a ciò che proveremmo se il gioco non fosse in VR. Ora, il carattere paravelbare di Paper Beast risulta vincente proprio in senso, in seno a questa ritualità che Eric Chai, che lo studio di sviluppo, ha sfruttato per il game design di gioco, potendo contare appunto sull'investimento affettivo che produce, sull'investimento emotivo che produce la VR. Sei dello stesso avviso, me ne vuoi parlare? Beh, sì, Paper Beast è un gioco che porta, secondo me, a un livello più alto, quando quel senso di violenza che, ad esempio, viene innescato anche in un gioco tra l'altro con Chai è molto a che vedere, che è Shadow of the Colossus. Dico che è molto a che vedere perché, in realtà, le meccaniche di Shadow of the Colossus, questo l'ho scritto anche nella recensione che ho fatto, ne ho già parlato anche su Outcast, è un po' una delle mie fisse, sono due designer comuni, sono due designer vicini, Ueda è un po' più giovane di Chai, però quando studiava arte in Giappone, quando ero uno studente, lui era un appassionato di computer occidentali, per cui era un appassionato di, recuperava la miga, piuttosto che questo tipo, non era una cosa comune per un Giappone che all'epoca era quasi totalmente consolare, oppure era vicino a computer come l'MSX o altri, però lui recuperava questi computer occidentali ed è un giapponese che ha avuto modo di giocare ad Another World, a giocare probabilmente anche a Prince of Persia, a quel tipo di dinamiche, poi di fatto lui le ha replicate anche nei suoi giochi, per cui Ico è un'evoluzione di questo tipo di design, così come lo è Shadow of the Colossus, e ha anche recuperato, soprattutto in Shadow of the Colossus, ma anche in Ico in effetti, perché Ico come in Another World implica un rapporto tra due personaggi molto stretto, un rapporto tra un personaggio che viene da fuori e un rapporto tra un personaggio che era già imprigionato in quel mondo, quindi di fatto la figura dell'ombra è un succedagno, diciamo così, dell'allieno che c'è in Another World. Dopodiché però questo rapporto l'ho anche ricostruito in Shadow of the Colossus, Shadow of the Colossus sembra un gioco solitario, ma in realtà è un gioco in cui c'è un personaggio, il giocatore che si confronta con delle creature che sono, prima di tutto sono innocenti, nel senso che non hanno nessun tipo di atteggiamento aggressivo verso chi va a stanarle, ed è un gioco che dopo un po' ti rendi conto che tu, il giocatore, di fatto sei lì per fare un atto contro natura, perché devi sovvertire la morte, quindi è proprio la cosa meno naturale che c'è, e per farla sacrifici delle persone, delle bestie, che ti attaccano solamente finché vengono attaccate loro per prime, quindi di fatto c'è quella roba lì. Ecco, Frondast e anche... Ecco, qua ti introduco la prossima domanda perché è proprio diretta al lavoro precedente di Rick Chai. Parliamo proprio della... In questo caso lo inquadriamo nella paraverbalità di Paper Beast, chiamiamo Frondast, e chiamiamo in causa Frondast. Frondast, tu che l'hai giocato, me lo hai fatto giocare tra l'altro qualche giorno fa, in Frondast i poteri dell'anelito, dello spirito di vita rappresentato dal giocatore, la manipolazione degli elementi, eccetera, sono diretti verso membri di una tribù che risultano degli agenti spersonalizzati, la personalità è appunto mossa da una ritualità motivata da logico, che il videogioco stabilisce narrativamente, danzare e suonare attorno ai totem per celebrare gli antichi, costruire un villaggio, pregare davanti una roccia della memoria per riportare poi il sapere alla tribù, chiedere aiuto verbalmente al giocatore Dio, come un'invocazione, no? Quando loro vogliono motivarci per costruire un passaggio di sabbia, così da farli superare un fiume. Insomma, in Frondast ci sono icone, interfacce, spiegazioni a schermo, una verbosità in tutto ciò che il giocatore può comprendere durante il viaggio delle tribù a ricerca degli antichi. Paper Beast non vi è una parola una durante la relazione del giocatore con la creatura di carta, con gli elementi da manipolare, la narrazione è totalmente implicita, abbiamo solo l'epigrafe, se ti ricordi questa non è una simulazione che sta nel lab di gioco, no? Dove si possono scegliere le impostazioni, i livelli da sbloccare e da rigiocare, la modalità sandbox, eccetera. Ora, riguardo alla scrittura di Paper Beast, si potrebbe dire che Eric Chai ha avuto vita più semplice grazie alla narrazione implicita, perché l'intero impianto di Paper Beast conduce al metaforico, a qualcosa di ancora meno esplicito e elaborato, dello stesso Another World, che nel suo essere un puzzle game muto doveva comunque parlare attraverso delle logiche narrative cinematografiche, riconoscibili dal punto di vista narrativo. Che ne pensi di tutto ciò? Dunque, è complicato, vorrei fare un passo indietro e tornare alla domanda di prima, perché non ho esaurito completamente quello che... Perdonami se ti ho interrotto il concetto. Però il punto era che, effettivamente, in Paper Beast, così come in Front Dust, però in Paper Beast nello specifico, questo tipo di legame con le creature viene espanso, come dici tu, attraverso la realtà virtuale, perché effettivamente sembra una cosa da poco, perché tu puoi dire, no, è chiaro, io posso anche affezionarmi tranquillamente a un oggetto, un personaggio che vede in un film che non è in realtà virtuale. Però, di fatto, il senso di violenza che c'è in alcuni momenti dei Paper Beast, quando tu ad esempio separi, utilizzi i cuccioli di questi animali per poter fare i tuoi comodi sostanzialmente, per poter modificare la cosa, ti porta veramente a un dispiacere, cioè è comunque una cosa, ed è qualcosa che secondo me faceva anche Shadow of the Colossus, però in maniera diversa, cioè paradossalmente Paper Beast ti fa quello che avrebbe fatto Shadow of the Colossus in Vuar, cioè fa proprio quella cosa lì, cioè tu di fatto intervieni sulla natura, a volte lo fai quasi sempre in maniera innocua, e anche lì innocua relativamente, perché giustamente noi siamo abituati, essendo esseri animali, antropomorfi, a empatizzare solamente con i nostri simili, però di fatto anche intervenire su flussi d'acqua piuttosto che su vegetali è sostanzialmente un comportamento violento, se vogliamo metterla in termini assoluti di quel mondo lì. Quindi noi magari proviamo, è più facile provare empatia verso l'animale, che separiamo dalla madre, però in realtà è un ecosistema che noi tutto sommato violiamo per tutto quanto il gioco, quindi c'è questa cosa qui. Tornando invece alla seconda domanda, che era quella riguardo al, come si dice, la difficoltà di portare avanti una storia rispetto a Front Dust, io la vedo in maniera completamente diversa, nel senso che Front Dust, ma poi l'avevamo anche già accennato in una chiacchierata che avevamo avuto voglia di fare online. Per me è il contrario, nel senso che, premessa Front Dust è questo gioco che è una sorta di mix tra un game, Malapopulus, con un puzzle game in cui effettivamente il giocatore deve intervenire come una divinità su una tribù di persone che lo prega, che lo venera, e portarla, diciamo così, in salvo lungo una serie di livelli. E in questo caso si interviene sul terreno, sulla fisica, esattamente come in Paper Beast. Certo. E di fatto Paper Beast, tutta la meccanica di interazione che c'è sull'acqua, piuttosto che sulla rimodellazione del terreno, è comunque derivata da Front Dust, che tra l'altro è molto complessa perché addirittura lo stesso Front Dust è un gioco che deriva da un periodo sabbatico che si era preso a studiare la natura e addirittura a studiare esplorato i vulcani, ma proprio una roba alla Herzog per tirare in ballo, comunque una similitudine. Dopodiché lui ha preso tutte queste sue conoscenze e ha creato un gioco che adesso non so quanto è stato fortunato a livello commerciale, non ne ho la minima idea, però era un gioco, tra l'altro lo aveva prodotto per Ubisoft, quindi non con lo studio indipendente, anche se poi è molto molto eversivo, ed era questo gioco strategico, Baragode Gaming, in cui di fatto si manipolava il terreno. Era molto bello anche solo mettersi lì e pasticciare quel terreno, cioè anche solo vedere che cosa succedeva, anche solo vedere cosa facevano questi omini, diciamo così. Era un gioco estremamente contemplativo, ma secondo me relativamente narrativo. Sarà che, ripeto, poi era relativamente narrativo perché di fatto tu in questo ruolo divino non dovevi evadere da questo mondo, come ad esempio in Paper Beast o in Another World, ma dovevi occuparti di altre persone, per cui più che un gioco narrativo in senso stretto era un gioco di regia. Di contro invece Paper Beast mescola queste due cose, secondo me Paper Beast prende quella che era la componente narrativa, tra virgolette, lineare di Another World, perché in questo caso abbiamo una storia per quanto metaforica, per tanto complessa, oppure apparentemente semplice, se uno non ha voglia di spendersi, diciamo così, in atti interpretativi che magari non sono necessari, può anche solo godersela pure sul piano estetico come un viaggio molto chiaro da quel punto di vista. Però comunque c'è una narrazione molto netta e per procedere con questa narrazione si deve prendere sostanzialmente quello che era l'attributo di gameplay, quindi tutta la parte rito che c'era in Frondust e qui in questo caso secondo me viene inserita, viene pilotata in qualcosa di più netto. Per cui secondo me non è stato difficile, secondo me è stato in qualche modo per lui, se non prendiamo, se togliamo Earth or Darkness che è pure un grandissimo gioco, sempre dicei, però secondo me se prendiamo Another World come una tesi e prendiamo Frondust come una antidesi, questa è proprio la sintesi di quelle due cose lì. Chiaro. Quindi secondo me no, secondo me è stato molto più facile, ammesso che poi vai a sapere cosa si prende adesso, però per me è stato più facile leggere una narrazione in Frondust, questo lo posso dire. Dunque, parliamo un attimo della ritualità artistica di Paper Beast, dato per tornare al titolo di questo incontro. Tu sai meglio di me che un rito, un rituale indica ogni atto insieme di atti che viene eseguito secondo norme codificate. Ora che abbiamo un fine sociale, che sia intrattene estrettamente personale, il rito ha bisogno di una partecipazione emotiva profonda, senza la quale cessa di esistere. Per questo nel rito è necessaria una componente estetica che è differente nelle diverse culture e in diversi tempi. Ora, Paper Beast combina la ritualità degli algoritmi comportamentali che muovono la creatura di carta con un impianto estetico che muove la partecipazione emotiva profonda attraverso l'arte virtuale, la partecipazione dell'utente, insomma. Se vogliamo è un'unione antropologica di vari aspetti vincenti del videogioco, che si permette di nascondere la sua natura di puzzle game ambientale per lasciare a parla la sua forte componente artistica. Tu ti dico una cosa, innanzitutto cosa ne pensi? Poi ti lascio il palco e ti lascio parlare dei limiti tecnici di PlayStation VR secondo ciò che vi accennavi all'inizio e ti lascio chiudere la trasmissione dopo questo tuo intervento perché io quando la estrapoleremo questa registrazione farò un intervento iniziale di premessa. Quindi voglio lasciarti anche l'onore di chiudere questa trasmissione. Lasciandoti il palco. Allora, Pepper Beast, grazie, prima di tutto, con un 5. Io saluto qui intanto, o magari no, magari sentiamo dopo, ma intanto vado e puoi metterti al centro del divano, caro Andrea, ed è tutto tuo. Ragazzi, ho anche fatto un salto, che storia. È bello perché adesso poi io da qua sto vedendo come si dice Luigi, che si allontana saltellando il suo avatar. Comunque, sì, Pepper Beast ha questa dimensione artistica che viene in qualche modo espressa attraverso la meccanica di questi algoritmi, attraverso in qualche modo la matematica, perché poi è quello di quello che si tratta. E secondo me funziona molto bene proprio perché c'è questo percorso che è, non so, suggestivo alla lince, alla fine poi ci sono veramente delle citazioni. E poi c'è anche un gioco nel quale la musica stessa come elemento artistico diventa un, non so come dire, una linea guida, una cosa da ascoltare, tutti i movimenti ambientali, anche i rumori ambientali che ci sono, sono fantastici, sono parte integrante del gioco. Secondo me è, io faccio molta fatica a parlare di arte, anche perché faccio molta fatica a definirla, per cui non voglio impantanarmi in qualcosa che, una discussione che poi non potrei sostenere. Posso dire che è estremamente affascinante, è estremamente corretto, coerente nel modo in cui si, non so, si srotola questa narrazione, che poi è una narrazione, ripeto, che dove apparentemente non succede niente, ma dove in realtà succede tutto, perché poi il giocatore viene veramente messo davanti a tutta una serie di modelli di forme di vita complessi, che sono veramente strepitosi da guardare. Ed è molto bello perché poi alla fine c'è questo momento, ovviamente super meta, però vabbè tutto il gioco in realtà è molto molto metanarrativo, perché dal momento in cui, come in Otherworld, il personaggio viene messo in questa sorta di calcolatore che, non so, come se fosse, ma ricordate quella puntata dei Simpson, dove era se non sbaglio uno speciale di Halloween, dove Lisa e Bart mettono degli omini, diciamo, in un vivaio, e questi omini poi evolvono da soli in una civiltà complessa che li vedono come di vita. In questo caso, in questo computer, diciamo così, che potrebbe essere anche la stessa console, PlayStation 4, è come se, diciamo così, degli algoritmi, dei numeri, dei dati, delle linguine si fossero evoluti in un sistema complesso che vive, che è una cosa che poi in realtà c'era i tempi di David Crane, dell'Italian Computer People, è una cosa che comunque ritorna nel videogioco, perché immagino che un programmatore abbia sempre, diciamo così, un programmatore, piuttosto che un designer, una tensione demiurgica, anche magari solo implicita, che non sa di avere, però comunque sa di stare manipolando qualcosa che è un po' come il DNA. Comunque, al grado di questo, è affascinante perché a un certo punto poi questa narrazione si scontra con delle, come si può dire, con la sua dimensione metanarrativa e a un certo punto il giocatore non sa più da che parte stare, non sa più da che parte è, c'è veramente un momento in cui c'è proprio addirittura anche un palco, per cui apre davvero a un, non so come dire, a un vero e proprio spettacolo, una rappresentazione. Ecco, e nel finale, in cui tutta la fisica viene anche un po' sovvertita di questo gioco, in cui bisogna fare i conti non tanto con quello che finora funzionava in termini di sistema, ma anche con quello che in quel sistema poteva andare storto, proprio perché era un sistema simulato e quindi limitato e quindi con, diciamo, tutta una serie di imperfezioni possibili. Ecco, io ho finito Paper Beast, non ho problemi a dirlo, senza sapere esattamente come abbia fatto. Cioè, io sono arrivato in questo finale che a quel punto è estremamente suggestivo, perché tra l'altro l'ho giocato, il gioco dura 5 ore, 3, 4, 5 ore, adesso, a seconda di quanto siete svelti con questo tipo di cose. Io tra l'altro poi non metto mai in pausa, per cui spesso mi sono alzato, mangiato, fatto altro. Però a un certo punto mi sono trovato, ok, saranno state le 3 o 4 del mattino, nella dimensione finale, che vi giuro sembra uscita da un film di Lynch, in cui tutto quello che fino a quel momento già era strano, però tu hai fatto a tempo abituartici, perché dopo un po' che vivevi in questo mondo simulato, tra l'altro proprio più anche attraverso la voir, diventava in qualche modo accettabile, normale, coerente. A quel punto la coerenza alla fine viene spezzata ancora, proprio sul piano della fisica, e lì ti ritrovi completamente sperduto alle 4 del mattino, ed è lì che c'è proprio il fascino, quando poi questo sistema alla fine c'è ilo, fa proprio esplodere. Ti dici, guarda, finora ha funzionato, perché io l'ho fatto funzionare, però in realtà stiamo parlando comunque di qualcosa che può andare totalmente in vacca. E alla fine va in vacca, va proprio in vacca tutti gli animali, tutti affrontano una sorta di, non so, percorso mortuario, cimiteriale, verso quella che potrebbe essere la loro fine, oppure l'arrivo di un'altra dimensione, adesso è difficile. Ecco, se posso dire perché, tornando alla definizione di Luigi, perché in qualche modo è una cosa artistica, è artistica, perché contiene tutta una serie di significati che sono finiti lì, probabilmente anche a prescindere dall'autore che ci voleva mettere, e che sono leggibili, ma non completamente ponderabili. È, non so come si può dire, una sintesi di tutta una serie di cose che poi il giocatore può scegliere o meno di decodificare, di sciogliere, ma che in qualche modo lo colpiscono a livello emotivo. Ecco, secondo me quella può essere una buona cosa per parlare di un prodotto artistico. Secondo me è quella che funziona molto bene. E anche il fatto che io l'ho finito, distinto, senza sapere bene cosa fare, cosa non fare, cioè ho semplicemente seguito il flusso, anche in quel caso probabilmente il gioco ha agito proprio a livello due volte inconscio, sia su quella che poteva essere la mia lettura del racconto che su quella che era anche la mia lettura del gameplay. Secondo me, quel punto di vista è, non so, è un'opera veramente straordinaria. Allora, ti sto parlando da fuori campo, ma rientro in campo per, uno, darti questo piccolo premio simbolico, è un divano, diciamo, dal design ultramoderno, per ringraziarti della tua partecipazione qui. Aspetta che lo metto tipo qua sopra, spero che tu sia in grado di prenderlo, guarda. Si, ragazzi, fantastico. Ah, sì, è facile. Ok. Niente, chiudi se vuoi con una tua riflessione su questo PlayStation VR che stiamo indossando. Vale a dire, è arrivato il tempo del suo limite tecnologico a farsi sentire? Quanto influisce questo su un'eventuale considerazione critica di un'opera come Paper Beast che fa dell'estetica e dell'emotività legata alla sua estetica e al suo senso di presenza del giocatore un carattere fondante? Ma allora, io ne farei una... uscirai addirittura da Paper Beast e parlerei di questo spazio virtuale nel quale stiamo inseriti. Secondo me... Allora, premesso che secondo me PlayStation VR, come tutti i sistemi di VR usciti negli ultimi 5, 6, 7 anni per quanto estremamente più sofisticati rispetto a quelli che ci immaginavamo negli anni 90 e a quel genere di cose che si vedevano, anche commerciali, perché in ogni caso ce lo possiamo comprare senza svenarci e comunque, cioè, Paper Beast effettivamente, ecco non so, per fare un paragone ha lo stesso limite che poteva avere la console Wii nell'ultima fase del suo ciclo di vita cioè ad esempio quando in Zelda Sky Wars World ha costruito tutto questo kart design alla Miyazaki fantastico però poi comunque non era in alta risoluzione quindi in qualche modo c'è un investimento artistico fortissimo per Paper Beast a livello di direzione artistica, è fantastica però limitato da quella che è la risoluzione della VR e in questo caso non stiamo parlando di un limite che diventa uno stimolo perché secondo me in questo caso l'autore ha saputo raccogliere tutti gli stimoli che aveva in testa ed in questo caso parliamo solamente di un limite che è un limite e basta per cui secondo me Paper Beast, a parte che meriterebbe di essere giocato e convertito anche su sistemi più sofisticati che già ci sono come gli ultimi Oculus Rift piuttosto che HDC Vive cioè in quel caso sarebbe già un peccato non vederlo PlayStation VR effettivamente si è il sistema di realtà virtuale più accessibile, più comodo però è ancora vincolante per una persona che magari appunto, ti ripeto, ecco un'altra cosa fantastica del gioco è il senso di, oltre al senso di presenza, è il senso di scala cioè per vista un senso di scala fantastico cioè tu quando sei davanti a un oggetto o una creatura così sai esattamente la percezione spaziale migliore possibile per quel tipo di rapporto però poi l'idea è di avvicinarsi, di vedere la sgranata cioè secondo me ormai siamo già abbastanza abituati a portare questo tipo di apparecchio per non vendere dei limiti cioè chiaro che se lo mettevi la prima volta cinque anni fa quattro anni fa il senso del meraviglioso era ai massimi livelli certo adesso secondo me è un po' non so come dire, è un po' un peccato godiamoci quantomeno questo senso di presenza e assenza assieme siamo vicini è bello come tentiamo anche di far, di trasmettere agli spettatori cosa si prova a stare qui ma è impossibile perché ovviamente noi siamo circondati da questa sensorialità e nel nostro sensorio sta il nostro sensorio è circondato da questa stanza perché la voir è difficile raccontare, la devi provare non è come un gioco che puoi far vedere in demo nel senso per vendermi un gioco per me era sufficiente vedere USA Today 30 anni fa però la realtà virtuale va più sperimentata perché è una cosa che se la provi ti viene voglia di comprarlo, di investirci soldi, tempo e anche fatica perché comunque ancora adesso anche solo per Station Warp dire noi per prepararci a questa cosa anche solo tira sul vidore, attaccare il filo l'ho detto mille volte ma è una palla cioè non siamo ancora arrivati al punto di avere un device comodo, leggero, senza fili io tra l'altro non so niente di tecnologia perché sono veramente un ignorante non sono un ingegnero io sono un entusiasta di un'altra cosa tra la voir di destra di una cosa che sta andando malissimo ovviamente che è come si dice Stadia che è questo sistema tra l'altro che in questi giorni è gratuito per cui Google per via del coronavirus ha permesso a tutti di provarlo e poi mi chiedo se Stadia ci mette l'hardware da fuori non c'è modo di... non ti è mai venuta curiosità? non è possibile farlo funzionare su un dispositivo in VR portatile? io temo che per il senso di continuità e di presenza problemi eventuali di connessioni basato su un flusso solo streaming potrebbero rompere questa cosa io ho seguito moltissimo quando Sony ha creato PlayStation VR ti dico che loro hanno garantito tantissimo il senso di presenza per una continuità del refresh rate della stabilità dell'immagine e tutto quanto quindi presumo che non abbiano ancora testato o quantomeno non siano ancora convinti a 100% di quanto si possa garantire una stabilità simile detto questo caro Andrea io ti lascio come ho detto scusami sono rientrato ma chiudere questo meeting lascio quindi ad Outcast la voce dei giocatori borderline l'onere e l'onore di chiudere io saluto invece gli amici di Ludens Beyond the Playverse e saluto anche il nostro cameraman Logan che voglio scattargli una foto così affinché voi possiate vederla occhio che stai usando la pistola si non volevo spararti scusami Logan metto subito la foto ecco qui ti faccio un bel servizio fotografico aspetta eh e poi lo mostrerò alla camera eccoti qui che figata che sei eccoci la stampiamo questa foto ok e la mostriamo alla camera affinché tutti possano vedere e questo è il nostro cameraman muto cameraman che comunque ha creato anche questa stanza quindi grande e per far vedere che è reale virtuale do un 5 al nostro amico ok e Andrea do un 5 a te questa volta sul serio ti lascio chiudere ciao ragazzi so che sembra una cosa goffissima che ci muoviamo così però viverla da dentro è una roba pazzesca cioè è comunque un esperimento così però è è veramente incredibile ma io non non ho molto altro da aggiungere quello che ho già detto finora parlando di Pepe Previste parlando dell'esperienza in realtà virtuale e parlando del lavoro in generale nel senso che ripeto io sono sempre abbastanza entusiasta di questa cosa però sono anche quello che si ricorda di avere il casco in casa solamente ogni volta che esce qualcosa di veramente interessante perché ho mille altri dispositivi non ho tempo mille altre fonti di intrattenimento che mi vengono servite più comune per cui ecco secondo me ma ripeto l'ho già detto in mille altre occasioni il momento del lavoro vero sarà quando potrai arrivare a casa dal lavoro con due palle così senza dover montare niente ti metti sul tuo casco in un attimo e hai lo stesso livello di accesso che puoi avere con un con un episodio su Netflix di una serie ecco secondo me quello sarà l'ideale che poi è una cosa che penso anche degli aerei per paradosso ci sono tutta una serie di campagne che fanno del volare in aereo che puntano sulla sicurezza sui mille controlli così ecco secondo me il volare sicuro sarà veramente sdoganato quando le campagne pubblicitarie punteranno su su due autisti di aereo proprio autisti che diranno guarda che brutto oggi non si vede un cazzo e puliscono con la manica della cosa per cui quando la realtà virtuale sarà a quel punto lì sarà data per scontato e per me sarà la cosa giusta comunque è stato fighissimo ragazzi grazie logan puoi parlare adesso non ancora beh grazie comunque a tutti per avermi ospitato grazie a Ludens forse adesso sì forse mi si sente eccolo qua e allora vengo anche io a salutare e vado a 5 eccoci tra l'altro veramente anche costruire questa stanza qua è una figata pazzesca perché anche questa stanza qua proprio l'hanno fatta loro e se voi andate per dire io da là adesso tu prova a inquadrare i coin hop che ci sono sì sì faccio fare un giretto adesso faccio fare un piccolo tour virtuale al nostro studio trattino cadetta con un tour con un pit tour veramente perché è stata una roba pazzesca ci tengo tanto a quello che abbiamo creato qui abbiamo cercato di diciamo replicare quello che poteva veramente essere un piccolo studio televisivo con tutta l'illuminazione i microfoni le varie risorse qui davanti abbiamo vedete i pad delle varie console da bere che non deve mai mancare nel caso sai conversando poi la gola può diventare secca e qui vabbè abbiamo i nostri marchi le nostre piccole citazioni a ma i marchi le citazioni che avete disegnati come avete fatto a disegnare allora tante cose che vedi qui sono asset creati dagli utenti perché tramite rec room si può anche creare da zero quello che si vuole quello che si vuole in pratica poi ti dirò una chicca un piccolo dietro le quinte proprio prima di fare l'ultimo saluto qua vedete le telecamere questa è la cabina di regia perché ovviamente tutti gli studio ci vuole una cabina di regia seria vedete a muro ci sono delle decorazioni a tema videoludico tu mi dicevi di far vedere i coin hop giusto qua intanto facciamo vedere ciao luigi ciao facciamo vedere la nostra sala conferenze che effettivamente deve ancora un attimino essere addobbata a dovere la scritta lì l'ha fatta luigi la scritta l'ha fatta luigi a mano è la prima cosa che ha creato quando è entrato qua dentro e ne vado fiero perché è riuscito a fare una cosa che io non riesco a fare tra l'altro tra l'altro prima di ah beh doveva essere tagliato fuori ma sono rientrato di forza tra l'altro l'ho fatta prima di sapere che potevano essere usati testi quindi preimpostati senza sbattimenti e Logan ha fatto poi mi ha fatto scoprire che si può fare tanto con molto meno tempo vedi è un piccolo trucco che ti svegliamo Andrea e svegliamo anche a chi ci sta ascoltando e vedendo in questo momento vedi due coin hop bellissimi questo muro e beh qua dietro c'è una stanza segreta che per ora nessuno vedrà allora praticamente ci nascondiamo tutti i nostri ospiti che rimarranno bloccati anche nella vita reale dietro un muro quindi preparati a scappare se ti avvicini qua se vieni qua senti le urla un po' vartate ma si sentono è ok ragazzi è stato bellissimo è stato un bellissimo esperimento grazie a tutti grazie ad Outcast la voce dei giocatori borderline ricordiamo su www.outcast.it grazie a Rec Room questa piattaforma questo social club virtuale che ci ha fornito la gratuità di tutti questi ambienti di questi asset e di questa insomma di questo spazio virtuale da vivere assieme la sua versatilità grazie a Logan a te cameraman che hai veramente portato le tue capacità di ripresa all'interno del mondo virtuale per la prima volta grazie sono stato fermo per la maggior parte del tempo ma grazie grazie Andrea grazie a voi rifacciamolo perché è veramente una figata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti